Una battuta, lei ha naturalmente la responsabilità di aver creato a livello televisivo Rocco Casalino grande personaggio appunto del grande fratello e anche genio della comunicazione e dobbiamo dirlo perché insomma oggi la carriera di Rocco Casalino non è stata fatta a caso oggettivamente è molto bravo, lei ha scritto già la lettera Babbo Natale o vuole... La mia responsabilità si è fermata lì però Lei l'ha scritta la lettera Babbo Natale oppure ha bisogno di un ghostwriter? No, mi hanno chiesto di scrivere qui una lettera Santa Lucia, Bergamo si festeggia Santa Lucia il 13 dicembre la scriverò di mio pugno, quella che abbiamo letto ieri non sembrava proprio scritta da un bambino di 5 anni Speriamo che i bambini di 5 anni scrivano in maniera più da bambini di 5 anni Grazie Sindaco Gori con il suo riscatto, Bergamo e l'Italia a punti per un futuro possibile che poi appunto è una lunga intervista dove si affrontano tante questioni non solamente Bergamo con Francesco Cancellato Grazie Sindaco, grazie Pietro Salvatori Grazie a tutti voi, ci rimettiamo assolutamente la nostra mascherina Andrea Pancani, Coffee Break, arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti